L'attentato ai mezzi del pronto soccorso va collegato al clima di generale dismissione ed abbandono, pilotato da una regia occulta che ha operato in funzione di interessi comuni e convergenti che richiedevano lo smantellamento della struttura, così come chiaramente denunciato nel comunicato stampa del 23 settembre dal Movimento 5 Stelle, unica forza politica schieratasi a vera difesa della struttura. Questa è la posizione del Comitato Salvare all'ospedale Piemonte in merito all'attentato della scorsa notte. Il Comitato continua a contestare l'atteggiamento di chi dispensa ottimismo sul futuro del nostro comio. Il gruppo presieduto dal magistrato in pensione, Marcello Minasi, si rivolge all'assessore alla sanità Baldo Gucciardi e chiede di ripristinare immediatamente il ritorno alle regole dai principi della buona amministrazione più volte calpestati dalla direttore generale del papardo Piemonte, Vullo. Chiesta anche l'immediata rimozione della delibera che sancisce la chiusura dell'ospedale.